Aspetta, devo essere pronto Però adesso sono ragazzi a 1100 Che stanno per essere 1200 Dobbiamo dire Canale TeamSpeak Che non so quanto durerà Però c'è un canale TeamSpeak Che farirà Qui Non lo posso mettere il link Di un'altra cosa che non sia No, lo so, metti soltanto l'IP gigante Ah, ok, quindi ho set Qui in sovraimpressione Iscirà l'IP Se non sapete cosa è TeamSpeak Andate su Google e cercate cosa è TeamSpeak Comunque noi nel pomeriggio Se volete ci trovate su TeamSpeak Se stiamo cazzeggiando Siamo lì Potete giocare con noi praticamente Parlare, dire massimo 32 persone Non mi fa fare Non mi fa mettere più di 32 persone Smentira Non so perché Non penso che supereremo mai la decina Contemporaneamente Però, vabbè Per chi è Quindi se volete giocare con noi A TF A Left A Minecraft A Ace of Spades A The Hidden A Trouble Insomma Quello che vi pare Aspetta Aspetta La caccolona gigante Così Ok Perfetto Giusto Usciranno due video al giorno Dalla prossima settimana Ovvero 1 alle 15 1 alle 18 Spero di riuscire a farli uscire tutti i giorni Controllate a quell'ora Se ci sono Se non ci sono Voglio che non avevo voglia di farli uscire Allora non escono Semplicemente Voglio chiedere scusa a Luca Perché Ci sarebbe dovuto essere lui qua dietro Perché stiamo valutando Che senza di lui Non riusciamo a fare il blog Giusto Quindi scusa a Luca Usciranno due video al giorno Ok 1 alle 15 E 1 alle 18 Perché usciranno due video Alla determinata ora Mi piace la Crema al bicioc E' solo buona L'odore è solo buona L'odore ti fa ingrassare Immagini E' solo l'odore Clicca qui per un video segreto Non è vero Non è meglio Per decidere il giorno ad uno Bisogna scegliere Perché è richiuso Perché senti Tic 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 Poi Da fastidio Bisogna scegliere un giorno In cui ci siamo tutti E pomeriggio Un pomeriggio Da lunedì al venerdì Che sarà da decidere Come cazzo glielo diciamo Che sarà da decidere E sarà da dire Almeno Due settimane prima Dove se Faccio un video io Dove dico E fare cose Quindi E via E via Ringraziamo Ringraziamo tutti Tutti i nostri iscritti Tutti quelli che ci sono E via E grazie per il supporto Grazie per mettere mi piace Per commentare Per fare iscrivere I vostri amici Non lo so Grazie per tutto direttamente Andiamo a prendere Luca E lo finiamo con lui il vlog Andiamo Su Su Questo è proprio bello Stiamo andando a prendere Luca Perché ci siamo resi conto Che senza di lui Il vlog non escono Perché qua si gira Qua c'è la freccia Dove si gira Non lo so Qua una volta Sono venuto a Sì è venuto Niente Va bene Non lo dico Questa signora Molto pazza Dopo la prendiamo Come torniamo Al contrasto Possiamo fare un video Logo di caso Mentre in guida Bene Questa macchina Veramente è una È una tenuta di strada Perfetta La marmita È semi Semitosa Quindi Così Salutiamoci Sono anch'io C'è caso Non c'è nessuno In macchina Guarda che sotto Magari c'è un killer Magari c'è un killer Si girava da qua Siamo quasi arrivati Qua vero Stiamo Stiamo andando a comprare L'iPhone 6 E il day one Sì Esattamente Esatto 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 Questo deve dare precedenza Questo In realtà Dava la precedenza Oh 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 Cunetto Non sapete cosa vuol dire Cunetto Meglio così Faccio io lo stesso Perché sono importanti Aspetta Pulisco l'obiettivo Ah Luca dov'è Posso incontro a mano E questi gran cazzi Così facciamo Aspetta Dovrebbe essere in questa Fermata Esatto Ma tu fai esattamente Questa magia qui Bravo Dov'è Luca Succa Vediamo che è pieno di gente È quello Tantissima gente No E hanno tutti la barba qui Che cazzo Tantissima gente Ma non c'è Luca Luca Succa Succa No è un'ambulanza Che culo La vedete è un'ambulanza Mi ha fatto prendere lo spavento Io sto guardando Se arrivano Se arrivano bei ragazzi Con la barba Oh giusto No se arrivano Mi sa che apri quello sportello E pisci all'india Così non mi vedo No Mi fermo qua E vedo Pssci Così Mi cazzo Logaggio Perché ci siamo da 2 minuti e 40 Registrando Pochissimo È passata una Mercedes Ecco i dottori di merda Enricchioni Senza fare nomi Luca Luca Mentre che lo aspettiamo Lo insultiamo Nel frattempo Ti prendo la mia faccia No Dai dov'è Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Eeeh Sta arrivando Eccolo Sta arrivando Sta arrivando Ma è il giro Mi fa tagliare No No Io sto guidando Vai Mi spiace Non volevo Ferti saluto Non volevi Ferti saluto Aspetta Aspetta Salutiamo il saluto No Riprendiamo il saluto Ciao Lu Ciao Amiche Tutta profonda Sbragliate Faccio Adesso per colpato Dobbiamo uscire Da qua Ok Siamo Ok Adesso abbiamo finito Saluto Devo fare 18 No vabbè Ho sbagliato Tutte queste Ho sbilato Ho sbilato Ho sbilato Di 4 minuti Corrò finta di grattarmi Invece riprendo Tutte le ragazze Che sono qui Ai 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 Questa è gnocchissima Ah Menti Ok La finiamo Con questa Clio Esattamente 4 minuti Ciao Ok Dove all'è? Ah, devo andare Ho prendo Una sedia Quanto ci abbiamo messo? Di cammini 3 secondi No, va bene, ringrazio No, no, no Mi ha sputtato in alto Siediti sopra le sue ginocchia Ecco, vai, che bellini Quello non è il ginocchio Minchia, cazzone Dovete fare un favore Dovete far sentire anche il cuore della testa che sfonda Eh, sì, così si sfonda davvero Allora, dopo Comunque Si vede tutto, si vede tutto Si vede che hai un culo come Come obiettivo principale della vita Eh, sì Ani? C'è l'ormente, l'azienda Che devo dire? Minchia un tossico Deve te fa un po' di acqua E che c'è l'altro di cosa c'è Tra l'altro Non vale Aspetta, Orazio Abbiamo trovato Justin Bieber morto Beh, direi che è morto Just in tempo Dopo aver fatto questa cazzata Ci infiliamo le matite di casa Era pensata alla macchina Eh, la meno importante è proprio che abbiamo preso la partnership Ah, vero Finito Abbiamo preso la partnership Forse l'avrete notato I più furbi l'avranno notato perché c'è qualche pubblicità ma non è che sia tanto importante alla fine Sì, infatti Finalmente Cioè l'abbiamo presa ma... Boh, alla fine è la stessa cosa Tanto noi in video li facciamo uguali Un po' uguale Il raduno che vi dirò in uno dei video Quindi tutti i sardi che guardano questo video Si farà il raduno No No Comunque basta Finito così, giusto? Si Ok Grazie a tutti Ci vediamo presto Un bacione Un bacione Alla mamma A California Ci vediamo presto Al prossimo video vlog Perché quello ormai Dovevo fare un gesto tutti insieme Tipo così No No Io faccio così Perfetto No I am credit to Tim That was all you Thank you HERE I COME